Secondo round oggi nella riunione congiunta delle due commissioni salute e bilancio presiedute da Paolo Gatti e Vincenzo Dincecco. Sotto la lente di ingrandimento ancora una volta il debito della sanità. Dopo le precedenti audizioni oggi è stata la volta dei quattro manager delle Asda Bruzzesi che hanno dovuto illustrare i loro piani di rientro dando garanzie della loro applicazione per contenere il debito. Piani che già avevano mandato scritti ma i presidenti di commissione hanno voluto l'audizione. Il parere delle commissioni si ricorda un parere vincolante ma pur sempre di natura politica. L'idea è che arriverà a parere favorevole ma con delle prescrizioni. Ci sono dei documenti, ci sono dei piani, i piani vanno analizzati in un percorso che passa attraverso il dipartimento, il dipartimento è stato già audito. Ovviamente credo che fosse un fatto normale che i direttori generali che hanno elaborato con le loro strutture i piani di risanamento fossero in qualche modo ascoltati e auditi all'interno della prima e della quinta. Noi lo faremo oggi e probabilmente a luce anche di quello che è stato scritto sia da loro che dal dipartimento probabilmente questo parere che ovviamente dovremo dare da un punto di vista finale come parere favorevole credo che conterrà anche come indicazione comunque un'impostazione di natura politica. Noi siamo una commissione consigliare politica quindi non possiamo entrare nelle specificità di ogni singola idea rispetto al piano di risanamento ma però immaginiamo che questi piani debbano andare avanti per il sistema abruzzo. Se da un lato l'assessore Verini nella scorsa riunione si era dimostrata molto ottimista per l'opposizione è un baratro totale. Un fallimento su tutta la linea, sui conti, sul numero di prestazioni diminuite e ovviamente sulla stessa maggioranza che con due proposte di autocommissariamento una di giunta e una di consiglio non fa altro che testimoniare il proprio fallimento. Pertanto noi saremo ovviamente molto vigili oggi sui piani di razionalizzazione perché vogliamo conoscere poi l'impatto reale che ha sulle persone e sui cittadini dalla mancanza di medicinali al taglio delle prestazioni. Il primo punto è la certezza del disavanzo. Noi abbiamo un debito che si attesta a circa 200 milioni di euro, dei piani di rientro che dovrebbero essere divisi per dodicesimi, cioè ovvero noi pensiamo che nell'ultimo periodo, nell'ultimo trimestre di riuscire a recuperare 68 milioni di euro. È davvero così? È la domanda che io ho fatto all'assessore. Qual è il target e la possibilità vera, reale nel piano di rientro e di recuperare somme da poter contabilizzare all'interno del disavanzo. Ci aspettiamo queste risposte. Stamattina attraverso i direttori generali andremo ancora a chiedere di rimanere sul punto fermo, cioè di dirci effettivamente quanto e cosa riescono a recuperare perché è di fondamentale importanza sapere alla fine dell'anno quanto sarà il disavanzo. La differenza di quelli che sono i piani di rientro sarà la differenza su un eventuale commissariamento. Grazie.